Sì, abbiamo delle novità, come ad esempio nel beverage, una verità di birre artigianali, una drink list, una varietà anche sui distillati e per finire anche produzione di dolci propri. Investire nella nostra terra penso che sia la scelta giusta, siamo contenti, determinati, non vediamo l'ora di ricominciare domani. Ciro, più che socio, Ciro è fratello, amico, confidente, è tutto, Ciro è tutto. Allora, Ciro e Florindo sono due semplici lavoratori che cercano di dare sempre il massimo ogni giorno e speriamo in questa nuova location di riuscirci perché è una location che ha una tradizione molto importante e che speriamo anche noi riusciamo appunto a toglierci tante soddisfazioni. Questa è una location importante, abbiamo una responsabilità, una location che ha visto fare la storia della ristorazione a Crotone, la casa di Rino Gaetano e non vediamo l'ora di riabbracciare i nostri clienti domani. Noi ci auguriamo di riuscire a dare sempre il massimo e di soddisfare i nostri clienti e questo locale lo abbiamo fatto anche per la nostra clientela appunto perché cerchiamo di far restare la gente in un locale più comodo e dove tutti potranno venire a degustare le nostre pizze. Grazie a tutti.